Ciao ragazzi, benvenuti nel nostro nuovo video di Resident Evil, cominciamo subito con gli affari perché i miei amici mi hanno incitato, mi hanno obbligato, mi hanno sodomizzato per vendere assolutamente il mega pistolone perché, insomma, servirà più avanti anziché ora, per scambiarlo con la black tail, ragazzi mi hanno detto di far così, io faccio così, volendo però, no non ancora, non aggiorniamo ancora, prendiamo la nostra black tail, ora abbiamo soltanto 15 munizioni, andiamo avanti ragazzi, altro filmatino, Ashley, ecco, visto, l'erba verde che ti mangi, no, ottimo, lo sapevo, perfetto, cioè avevano proprio programmato questo tipo di situazione, avevano proprio pianificato che lei fosse ribellata, salviamo, non me ne frega niente, la segretaria può aspettare, cos'è? No, il bastardello! Eh? Sì, va bene, dopo questa amorevole conversazione si può andare avanti qui dentro ragazzi avete visto il video per il contest che ho fatto per no banter con uno speed art mega ultra figaccioso granata ghiacciante, era da un po' che non se ne vedevano ragazzi, per chi avesse incominciato a vedermi ora non sono granate ghiaccianti, eh, sono accecanti da fuc da fuc aiuto ragazzi, questo posto qua non mi convince e non si va oddio mio cos'è sta roba? no madonna mia ragazzi questo coso qui ci fa secchi ci ammazza tutti ma ora io tiro fuori il pacificatore dove sei? dai ditemi che è morto ma che cos'è? un'aragosta con le zambe occhio blu ho preso signori questo qua deve essere il loro verso perché sento qualcosa ragazzi sono orripilanti santo cielo aiuto madonna mia che schifo vieni guarda che ti vedo, eh non osare rialzarti oh mio dio occhio verde questo qua ragazzi ci vuole il nostro nuovo cecchino bam signori ah non devo neanche tirar la levetta che figata ragazzi le proprie una figata senti Nanetto i tuoi insettini mi fanno una pipa detto fine fine eh munichia in tupitola ragazzi quanta roba che sto trovando qui adesso ce ne saranno almeno altri 20.000 ma cosa vuoi fare ma che stacchi ma va a zappare la terra ma si ancora che mi danno più roba dove vai ma come hai usato ragazzi è ora di curarci perché è ora di curarci ok che altro no finché ci sono quei cosi lì il pistolino mi sa che mi aiuta quanto ceto paga le tasse cioè poco o niente un'altra pagina do slenderman dove stai? dio mero domani magari eh bello anche questo fucile qua che non devo ricaricare cioè non devo nel caso però è un'erba gialla il tizio non si può aprire sta porta però se cos'è che c'è scritto? troppo arruginita non si apre davvero? si è vero si è vero la prossima volta diamo retto ai cartelli granale c'è di aria credo che debba andare di là uuuh signore abbiamo trovato dei nuovi amici pure questo non si apre questa non ho idea di dove mi porterà via wow tanta buona ruba lampada farfalle scommetto che ci devo inserire gli occhi c'erano proprio le cavità giuste ragazzi aspettate che li uniamo bene ragazzi credo che in finale venderemo tutto qui c'è ci sono un paio di super computer cosa che si facendo effluire l'acqua muy bien ragazzi ora probabilmente sarò assalito dai nemici ma molto probabilmente ecco lo sapevo oh madonna signori cos'è che ho fatto li ho li ho preso a calci in faccia a calci in bocca ragazzi ce n'è un altro tre colpi di fucilla pompa signori occhio blu ragazzi ho trovato anche la terza roba da inserire nella lampadina ah no c'è proprio ne ho trovata un altro di un altro magari se lo vendo tanto l'ho già inserito nella lampada o in qualche l'è ancora non ci provare neanche certo che proprio ti no dannaziones non mi vomintare tutto l'alcol che hai bevuto in faccia guarda che bastasi occhio verde occhio verde ragazzi quanti ne hanno gli occhi ok ragazzi siamo inventati la vita e ora portiamocela ok in alto signori sono coriacei eh meglio anche se non li trovavamo lo sapevo lo sapevo lo sapevo che se non era davanti te calcetto occhio verde ragazzi quanti posso sapere quanti occhi troviamo lacrima viola anche se non si vedeva ragazzi ve l'ho dato esplorare esplorare è una roba ragazzi sti insettaci schifosi proprio loro dovevano mandarci non dei poni che così almeno era bello farli fuori no questo qua è brutto anche farli fuori molto allegra questa stanza beh una sinfonia di catene ragazzi guardate che bello wow è una giostra Luna Park vero perché se è così la voglio provare via e mo via meno male che ci sono le righe dove passano perché se no ok la crema viola ragazzi mi sa che appena troviamo un mercante diventerò l'uomo più ricco di questo paese che è il boh dov'è che siamo tra l'altro in Spagna più che in Spagna siamo sembra di essere in docazzo siamo avete presente il famoso docazzo siamo no stanno celebrando la santa messa morire morire e svivire ancora ragazzi qui mi sa che è il momento giusto per usare il nostro cecchino dai che non mi vedono dai facciamo fuori il loro capo com'è che si fa no si è accorto di me ragazzi sono un deficiente potevo però metterci di meno si uno l'ho preso però però adesso stiamo arrivando in massa niente fronteggiamoli come facciamo al solito ah god sei rimasto fuori sfigato vieni qui te uh dai devo andare a prendere cosa mi ha lasciato ragazzi perché deve avermi lasciato qualcosa di importante c'è un mercante là dentro è il mercante amico mio ti libererò ormai sono diventato un pro in queste cose benissimo ragazzi abbiamo liberato tutto anche il nostro mercante adesso è libero fidati hai ancora bisogno di comprare armi da me cioè ho ancora bisogno ma si chiara concavità quindi ho fatto male a vendere la gemma che andava messa qui dentro saltemo giù e quello che ci ha lasciato è ancora lì signori spinello stavano celebrando qualcosa su una specie su una specie di di poltiglia di sugo ah giusto stavano facendo il sacro rituale delle penne all'arrabbiata il sacro rituale delle penne all'arrabbiata signori mi sarei unito anch'io ma non ho fatto in tempo hanno finito appena sono arrivato che magna magna qui hanno già aperto qui già è tutto il nostro mercante però ehi ehi volevate fregarmi eh si dov'è il mercante ecco ti qua ciccio eh si welcome welcome signore anch'io ho tanta buona roba da venderti allora ti venderò vendiamoli spinelli 3 8 spinelli 3 lacrima viola per 4 10.000 peseta signori occhio verde occhio più lampada lampada farfalle con verde con blu aspettiamo di verdi ne abbiamo 3 intanto vendiamogliene 3 anche no 2 per sicurezza ok maschera con cavità la teniamo lampada per farfalle compra mappa tesoro castello pistola red 9 indicatore blocco in base niente ottimizziamo ovviamente la black tail che ci serve ci serve più potente ragazzi e anche magari la velocità di ricarica dai sbagniamoci completamente come facciamo di solito la velocità di ricarica del fucile certo che tornerò ciccio ovunque quanto pare di qui non si può andare indietro o si che si può dove dobbiamo andare ragazzi si va di qui che non ho ancora esplorato suppongo o si ragazzi è una mappa gigantomanesca allora io arrivo da dove ho già esplorato lì c'è il mercante se andassi dritto in quel portone da dove arrivavano i ah però qua c'è da salvare ragazzi salviamo signori perché se no vediamo quanto sono un momento eh 18 ancora un attimino ragazzi un attimino un attimone bene a quanto pare sembra che l'unica sia andare avanti da dove c'era il mercante per forza poi scopriremo che finiamo in un in un tunnel ragazzi ho preso la porta vicino al mercante ok andammo avanti sento già la voce rauca come la mia di un prete no di più preti chissà cosa staranno facendo si staranno mangiando il desert morite si 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 sono qui oddio allora calma e sangue freddo calmando ok è ora di allontanarsi da questi tizi da questi tizi uno l'abbiamo cecchinato perciò cosa ridi ma che ridi cosa ridi lord seddler hai deluso il tuo lord seddler wow muiri dicono più parole che attacchi che fanno dai uniti 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 pitola dai anch'io però come angolo cosa che fai c'è spari contro la colonna lasciamo lì ragazzi tanto ammazzarlo per non ammazzarlo piuttosto andiamo avanti 600 pesetas signori che povertà che c'è in questo posto ragazzi però è potente sta pistola sti mazzi se è potente 1500 pesetas permesso buongiorno muiri muiri mu uh ragazzi c'era quello rosso questo quello lì va cecchinato alla fate stamper ragazzi ma l'hai detto schifoso e allora non vale più la pena però è più intelligente degli altri già lui e morire e svivire dai toh guarda il tuo morire e svivire ma pianta come? se te ne eri già andato stai scappando adesso hai paura ciccino ciccino hai paura uuuh signori 4000 pesetas credevano di fregarmi dove vai ciccino no ragazzi che fail oh no questo i preti non dovrebbero averlo ragazzi chi vi ha dato il permesso per tenere in una chiesa quella roba lì non va bene ragazzi non va bene cosa dirà a razzi cosa dirà a razzi razzinger eh? è così che vi difendete non con la parola di dio no con la parola di quella mitragliatrice vi difendete allora io mi difendo con la parola del mio fucile no mi prende allora vero che non mi prende è vero che non mi prende così però io non prendo lui ragazzi mmm la situazione è curiosa ragazzi via che fail ragazzi sono un pochino teso si muore l'ho preso ragazzi si lo so che c'è la chiave si della galleria l'ho preso signori l'ho preso se credeva di di futticchiermi where should I go? certo che signori una minigun ma di quelle belle dei preti prendiamo la nostra pistola ok e si è chiusa non ti aspettavi che ce l'avevo eh te non si vede proprio eh quel servo che quel servo si ha una lacrima viola conficcata nell'occhio vabbè ecco perché si chiama lacrima viola no prima di azionare eh azioniamo no il sacrificio di 6 vite porterà nuova luce quale interruttore vuoi premere 1 2 3 4 tutti i quadri belli molto belli molto simpatici molto calorosi dai vediamo quello l'unico quadro cristiano ho capito ragazzi dobbiamo fare in modo che ci siano 6 impiccati no 6 che muoiono su qua dovrebbe essere giusto eh lo sapevo ragazzi in queste cose non mi batte nessuno I'm the fucking genius eccolo si 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 sei vecchio it might come as a surprise but I'm only 20 years old so you're just like all the others the puppet or the parasites surely you don't think I'm the same as those diminutive ganados the parasites las plagas are slaves to my will I have absolute control well I really don't give a damn rain or shine you're going down certo si vabbè sono 6 preti eh eh sono 6 preti mi sa che devo prepararmi ecco lo sapevo dunque ragazzi prima di tutto la granata ghiacciante poi poi di tutto granata normale eh si vabbè va bene va bene va bene va bene cioè lui lui crede che io non ho ancora combattuto un prete però posso ancora aprire qui si va bene ciao ciccio oh cioè da qui vicino è il minimo va bene va bene va bene mi allontano dai eh no oh oddio no questo no questo va bene ma ok sono in difficoltà va bene va bene adesso posso affermare di essere in difficoltà si va bene va bene si ragazzi perché scappate eh perché io un fucile a pompa e voi no 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 dove scappi cioè uno scappa anziché corrermi incontro ah per prendere le distanze no va bene va bene va bene va bene va bene calma ragazzi calma calma speriamo di tutti questi amici del bosco perché tu sei ancora vivo non mi ha dato nulla unitonito pitola si dai 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 si signori guardate come so sfruttare l'ambiente intorno a me c'è wow ci c'ho bella mira però va bene capito dai ragazzi la mia deficienza non ha limiti fermati un pochino come era sul ok ragazzi ce ne siamo liberati mi chiedo dove siano finiti quelli con rpg adesso dove devo andare forse di qui no non dirmi che oh si si era un modo per aggirarli si lo sapevo no i ask you again crados togliamocene su ragazzi alla prossima macchina salviamo e ci vedremo alla prossima puntata ragazzi morire svivir what's this ah giusto il sistema di sicurezza sembrava una cosa così difficile ma in realtà si si disattiva c'è un tesoro subito prenderlo signori se va bene tanto avranno soltanto un colpo che poi dov'è che sono era questo il sistema di difesa del tesoro molto accurato ragazzi e io molto scemo no saltare oltre come faccio ad arrivare lì forse ho capito devo andare in questa puertas e premere lì si premiamolo lo sapevo ragazzi però adesso mi sa che compare qualcuno lo sapevo cos'è che hanno madonna signori e mo ragazzi mi hanno fatto paura per un attimo 1400 ptas 1300 ptas aprire che rueba è decorazione con capra forse ho capito ragazzi sarà un pezzo per completare il portone che c'era all'inizio quello dove dove abbiamo incontrato il nanetto per la prima volta poverino crede di aver vent'anni credo che dovevamo andare di qua ragazzi ragazzi dove dovevo andare sì probabilmente dritto sì di qua bene ragazzi è stata davvero un'ottima puntata ho fatto davvero parecchi progressi eccola qua la macchina da scrivere signori la puntata si conclude qui ci vediamo alla prossima ragazzi bella no ragazzi questo qua lo riproviamo che schifo signori grazie 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 Grazie.